Domenica Free a mare senza basiere è questo il nome della nuova iniziativa del sindacato italiano Balneari di Confcommercio Crotone che vede la partecipazione di alcuni dei più importanti stabilimenti della provincia. Per tutte le domeniche della stagione estiva, i lidi aderenti all'iniziativa previa prenotazione ospiteranno gratuitamente due disabili con il loro rispettivo accompagnatore. Un'altra importante azione della valenza sociale a favore della comunità realizzata grazie all'impegno del presidente del sindacato italiano Balneari di Confcommercio Crotone Luca Manica è un'idea che aveva da tempo, spiega Manica di Confcommercio Crotone. Oggi sono felice di vederla realizzata grazie soprattutto agli amici proprietari dei lidi che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa. Insieme a loro, dice ancora Luca Manica, abbiamo scelto di dedicare al progetto le domeniche estive, giorno in cui si registra il tutto esaurito, proprio per rafforzare ulteriormente il messaggio di inclusività che sta alla base dell'iniziativa stessa. Quest'azione segue di qualche giorno quella realizzata sempre da Confcommercio Calabria Centrale Crotone attraverso il nostro sindacato italiano Balneari presso il Belvedere sul lungomare di Crotone con la quale, grazie alla collaborazione della ditta Graziani, sono state totalmente ripristinate le due scale di accesso al tratto della spiaggia di fronte al cimitero cittadino. Metteremo in campo altre iniziative, conclude Luca Manica. Questo è l'elenco degli stabilimenti balneari che hanno aderito all'iniziativa. Gli stabilimenti balneari che non hanno ancora aderito all'iniziativa possono farlo contantando gli uffici di Confcommercio Crotone 0962 20 163. Grazie. Grazie a tutti.